Ciao a tutti ragazzi, quindi apertura del mazzo verde, mazzo vento, perché la mattina che sono le 7 da qui, insieme alla mia ragazza, la vigilia di Natale, aspetta c'è una cosa c'è il tampetto d'oggi, vediamo dopo, no mazzo, sennò non bacio mille, ok, sarebbe sedato dietro vedi, ok, eh si è salta, ieri notte mi dicevo, apriamo le carte, apriamo le carte, no, ciò non c'è, non c'è, ma come le ripeto? voglio vedere, ah scusa, ma io non lascio, ah bene, vediamo con cazzo, metti più po', ok le carte, lei è tipo elfa dei boschi, scusate la mosciaria del video, ma le 7 da mattina non è, ah beh queste sono tutte le pietre magiche, ok niente, questa era l'apertura del mazzo, metti qui, poi ci dedicheremo a imbustare le carte, e niente, lasciate un piaccio, un commento, iscrivetevi al canale, scusate per la mosciaria, vi dicevo questo video! Grazie! Grazie!